Ciao, buongiorno a tutti gli amici di Good Morning Genova. Questa settimana per la rubrica recensioni veloci di libri vi segnalo un autore per cui sono impazzita, il mio nuovo libro preferito è Giacomo Casanova. Ho trovato nell'usato Storia della mia fuga dai piombi. In realtà se ne trovano edizioni varie, la migliore probabilmente è quella Mondadori con la traduzione di Piero Chiara perché Casanova scriveva in francese. È un viaggio intorno al suo mondo, al secolo XVIII. È un mondo europeo fatto di giochi politici, fatto di geografia, fatto di fughe, spostamenti, fatto di incontri, di lettere, libri. È un personaggio sicuramente vanitoso ma è una vanità che gli si perdona perché la sua eccentricità, la sua capacità di raccontare il mondo e raccontare quello che gli accade è talmente straordinaria che davvero gli si perdona tutto. Come avrete capito ho perso la testa per Giacomo Casanova. Vi comunico che non si trova nulla nel mercato del libro nuovo. Per ora non c'è nulla in traduzione soprattutto rispetto a questo piccolo capitolo di una biografia sua, un'autobiografia sua che invece è pubblicata per Mondadori ma solo nei volumi dei Meridiani. Quindi sbizzarritevi se volete cercare nei mercatini dell'usato, su ebay, sui reminder. Diversamente l'unica chance è la biblioteca, che è sempre un'ottima chance, oppure la collana Meridiani. Quindi niente, buona ricerca e buone letture. Ciao!